Corredoio verde che gradualmente prende forma nei primi segmenti e in attesa di risolvere le questioni più delicate. A Torino di Sangro in località Borgata Marina la pista ciclopedonale è stata già asfaltata in un percorso che conduce a Fossacesia e poi alla Foce della Rocca. Il percorso è di pietrisco rullato successivamente. A sud invece contrada lago Dragoni per circa due chilometri e mezzo è interrotta a causa di frane ed erosione con la via verde che ricomincia in località Lemorge col recente bitume finalmente steso. Il sindaco Nino Di Fonso tira però un sospiro di sollievo annunciando fondi che permetteranno la continuità dell'opera escludendo così il rischio di improbabili bypass. Una barriera radente al ridosso dell'ex tracciato ferroviario e alcuni pennelli è infatti la soluzione individuata dai tecnici per risolvere il problema e per consentire il passaggio della via verde che in caso contrario si sarebbe bloccata proprio a Torino di Sangro. Dal provviditorato delle opere pubbliche arriverà un milione e duecentomila euro. La regione Abruzzo ne sborserà un altro. Il ribasso d'asta prevede un altro milione dunque tre milioni e duecentomila euro il totale quanto basta per raggiungere i due obiettivi bloccare l'erosione e consentire il passaggio della via verde. Appalti che dovranno ufficializzarsi entro il 2019 per poi aprire i cantieri nei primi mesi del nuovo anno. Il primo cittadino è arrivato la notizia bellissima al ministero di un milione e duecentomila euro ma qual è il nostro idea oggi di fare perché purtroppo non avevamo soldi la via verde doveva passare abbiamo pensato di abbassare la quota al lago Dragoni invece oggi che vogliamo fare che quel milione di euro delle proprietà delle opere pubbliche vogliamo riportare in quota la via verde. Quell'altro milione e due realizzare due pennelli con dei francifrutti per mantenere l'erosione. Questo deve essere senz'altro appaltato entro il 2019 se eventualmente non sarò in grado. Tornaranno indietro i fondi ma questo sindaco sicuramente non si fa scappare questa economia. Quindi abbiamo un intervento quasi 3 milioni e due però purtroppo è grave la situazione lì a Dragoni. Tutti quanti sia la provincia che la regione si è adoperata affinché si potesse continuare questa bellissima via verde che tutti i paesi della costa hanno voluto ma tutti gli abruzzesi hanno voluto che questa ricchezza, questa bellezza naturale che noi abbiamo sulla costa passasse con le bici a piedi correndo. Una pista ciclo pedonale bellissima che non si poteva interrompere qui a Torri di Sangro.